Buongiorno a tutti gli amici di Connessioni, sono Emanuele Pollastri, l'amministratore di Vumi Networks. Siamo presenti a ISEE 2017, il nostro quarto anno a questa fiera. Presentiamo la versione 5.2 di VumiJ, del nostro software gestionale che gira su Media Player Spinetics e novità di quest'anno anche sui monitor WebOS di LG. Nel nostro stand abbiamo voluto illustrare tutti gli scenari possibili applicativi del nostro software che sono sostanzialmente collegati al mercato del retail da un lato e al mercato delle corporate dall'altro. Abbiamo nella nostra stele principale del nostro stand degli esempi retail nel quale possiamo vedere le applicazioni come listini prezzi, dove il cambio dei prezzi viene eseguito in maniera pressoché automatica dalle connessioni con dei database che ne forniscono le informazioni piuttosto che scenari legati all'hospitality o scenari più legati al mercato dell'abbigliamento retail, dove anche qui abbiamo applicazioni legate a listini prezzi, offerte e promozioni. Dall'altro lato invece abbiamo le applicazioni più legate al corporate, come la messaggistica delle corporate TV, dove anche in questo caso la gestione dei messaggi categorizzati avviene in maniera molto facile e semiautomatica tramite il sistema. Abbiamo anche una nuovissima parte del sistema che si occupa della comunicazione per le università e i campus universitari e per musei e centri congressi. Il sistema è basato su tecnologie web, per cui non richiede l'installazione di nessun applicativo, semplicemente con un web browser connesso al sistema e con una username con i diritti e i privilegi di accesso, è possibile modificare tutti gli scenari che vengono inviati poi sugli schermi. Quindi per ulteriori informazioni io vi rimando al nostro sito che è www.wumi.com.